Ancora in crescita la curva epidemiologica. In Campania, nella giornata di ieri, registrati ulteriori 4.601 casi positivi su 25.806 tamponi effettuati. In totale, quindi, sono 86.919 le positività in Campania. Continua a crescere il numero dei contagi anche nella città di Torre del Greco. Nella giornata di ieri certificate altre 40 positività, tutte in forma sintomatica. 4 invece i nuovi casi di guarigione. In totale sono 527 i cittadini positivi. A Torre Annunziata sono 13 nuovi contagi e 9 le guarigioni, per un totale di 354, di cui 138 guarite e 8 decedute. Nella città di Ercolano, i cittadini attualmente positivi al Covid sono 491. Intanto, intensificati i controlli della Municipale, al fine di scongiurare assembramenti e garantire il rispetto dell'enorme anticontagio da Covid-19. Ispezionate varie attività commerciali. In particolare è stato sanzionato, con una multa di 400 euro e la chiusura immediata per 5 giorni, la terrazza Vesuvius. Gli agenti hanno accertato la mancata registrazione dei clienti presenti all'interno del locale, la mancanza dei cartelli con indicazione del personale e assembramenti in atto. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. A Castellammare di Stabbia, nelle ultime 24 ore, ulteriori 22 cittadini risultati positivi. Tra i nuovi casi ci sono 5 persone che presentano sintomi e 17 asintomatici. Sale dunque a 889 il numero dei cittadini positivi al Covid-19. Una leggera flessione rispetto ai contagi giornalieri dei giorni scorsi, che però non fanno gioire. Il sindaco Gaetano Cimmino, infatti, fa notare che l'attuale calo dei nuovi contagiati sia dovuto con ogni probabilità al minor numero di tamponi lavorati nel fine settimana. L'obiettivo, spiega il primo cittadino di Castellammare di Stabbia, è quello di arrivare al periodo natalizio nel miglior modo possibile per tutelare tutte le realtà economiche e commerciali del territorio. Se ciò deve significare oggi mettere in campo azioni ancora più drastiche della chiusura della villa comunale, siamo pronti a farlo. A Bosco Reale sono 6 i cittadini guariti dal Covid-19 e 40 nuovi positivi, di cui 12 sintomatici.